La città di Cagliari è una delle più belle che si affacciano sul Mediterraneo tra torri antiche e moderne. Servizio di Maurizio Ciotola. Cagliari può essere annoverata tra le città più belle del Mediterraneo per la sua esposizione e per come l'urba si è sviluppata sui colli e tra di essi. Vi è però stato un assalto urbanistico privo di pregio che nella sua fase post bellica, in assenza di risorse, ha cercato il massimo lucro con il minimo impegno intellettuale, materiale e nella qualità strutturale. Quartieri interi presentano orribili palazzi anonimi e soprattutto scadenti nello stile e nelle fattezze. La parte antica della città, non la più antica ma quella che rappresenta Cagliari per aver ospitato nei secoli la sua classe dirigente e i vertici istituzionali e clericali, oggi presenta una decadenza intollerabile. Castello si erge e sfoggia la sua bellezza che da lontano sembra essere intatta, non da vicino però. La prima cosa che appare per chi giunge dal mare e dalle strade che percorrono la costa ad est e ovest della città, sono le mura e l'agglomerato di case che si ergano tra numerose torri in continuità, delle quali solo due in particolare sono in evidenza, le altre assorbite dalle mura e dalle case. Le reggere torri in città non è solo una pratica antica, anche se in antichità queste avevano uno sviluppo armonico e funzionale. Adesso le torri avulse al contesto urbano sono i palazzi, il cui anonimato pone un pesante marchio urbanistico, nonché la pretesa di definire un nuovo skyline urbano nell'intento di spassare via quello storico. Una città che ancora oggi sembra rifiutare il passato abbattendo quello che cataloga come vecchio, ancorché antico, è che, nel delirio del cemento e del mattone, occupa gli spazi vuoti con edifici avulsi, contraddistinti da un'architettura proprietaria, egocentrica, piuttosto che artistica e funzionale, men che meno bella.